Amici carissimi fuori al Radio Caffè Roma perché Weekend Dance si sposta anche a Roma Allora amici com'è la serata eh? Bella serata sicuramente, c'è un casino di gente selezionata alla porta Bella gente eh? Bella gente E le ragazze? E le ragazze beh Sono bellissime diciamola a tutti Allora un saluto, un saluto a tutti quanti da Weekend Dance Perché c'è bella gente, bella gente Dino piacenti Weekend Dance Ciao